Caspar Treyer, nuovo acquisto dell'Ora Si Ravenna, cosa ricordi dell'ambiente di Ravenna quando sei venuto come avversario e cosa ti aspetti da quest'anno? Innanzitutto grazie, il palazzetto era davvero caldo, tanta gente, penso che questo palazzetto non l'ho mai visto vuoto diciamo, è sempre stato quasi esaurito quindi è un palazzetto davvero bello con della gente molto calda, che fa tifo ed è molto bello giocare qua. Ci sono delle grandi aspettative in realtà da quest'anno perché per adesso con le acquisti che abbiamo fatto stiamo facendo una squadra abbastanza forte che secondo me può essere molto fisico, molto veloce e che gli avversari avranno paura di noi. Il cambio di ruolo da 4 a 3, come si vede Treyer oggi? Treyer oggi penso che è un 4 che può scalare da 3, che poi nel futuro dovrebbe essere un 3 che poi può forse qualche minuto da 4. Un giocatore che penso di avere un tiro abbastanza buono ma c'è tanto da migliorare.